Qua dove sta andando? Non capisco, è 90 all'ora, da un'altra careggiata, non puoi vedere, ma non ci credo, la caccia sta andando sta andando. Quattro frecce a contromana ai 90 all'ora, ma non ci credo. Ragazzi, ma hai 90 all'ora a contromano questo qua, questo è fuori, ma non ci credo.